Buongiorno e bentrovati con questa edizione di mattino 6, 12 ottobre. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Ieri una giornata molto lunga da un punto di vista sportivo che abbiamo seguito in prima linea con un paio di lunghe dirette, soprattutto la seconda, fine intorno alle 23.30 per seguire in particolare in prima serata il posticipo di Serie B tra Ascoli e Pescara. È andata male al Pescara di Oddo, battuto 3-1 in rimonta dall'Ascoli, ma era andata male anche alla Virtus Lanciano che nel pomeriggio aveva perso di misura a Bari che si conferma uno stadio tabù anch'esso come se non peggio il Braglia di Modena. In Serie D una vittoria importante quella del San Nicolò a Matelica, vittoria importante anche per il Giulianova nello scontro diretto contro la Yesina. Pareggio per il Chieti, sconfitta per la Miternina. Oggi tocca alla Vezzano in posticipo contro il Monticelli. In Lega Pro invece un sabato agrodolce con la vittoria del Teramo e la sconfitta dell'Aquila. Ne parleremo diffusamente nell'ampia pagina di sport di questo lunedì, ma intanto la nostra apertura è dedicata alle pagine della cronaca, intanto con le testate nazionali partendo dalla Repubblica che apre così la Turchia contro Erdogan, Ankara, la strage dell'Isis. Poi vediamo l'altro titolo che apre l'edizione odierna della Repubblica. Le pensioni slittano al 2016, Roma avrà le primarie, Renzi frena, niente bombe in Iraq, Marino sfiduciato dai cittadini, il Vaticano, la capitale va scossa. E poi ancora i commenti a questi titoli, in particolare a quello su Roma, la chiesa neutrale se Ignazio se ne va e poi la città non tolera i comprimari. Poi le parole del sindaco di Milano Pisapia, no a uomini imposti dall'alto, decida la gente. E poi venendo ai fatti relativi alla Turchia, quei sorrisi verso la morte. In basso il Nobel e il riscatto dei libri verità. E poi la polemica, internet e privacy, c'è un giudice in Europa che frena gli Stati Uniti. Lasciamo la prima pagina della Repubblica, andiamo a vedere la prima pagina del giornale. PD nel caos, Marino lascia e raddoppia. Oggi si dimette, però pensa di ricandidarsi contro Renzi, ma il Vaticano non lo vuole più vedere. Berlusconi, unitici, riprendiamo la capitale e l'Italia. E poi l'identikit del nuovo sindaco, un manager non basta, a Roma serve un genio, scrive Paolo Guzzanti. E poi la top ten della mala internazionale, tre italiane tra le donne boss più ricercate del mondo. L'allarme della polizia, camorriste in forte crescita e più spietate dei maschi. C'è anche il controcorrente, di spalla la guerra degli esercenti, dalla sagra al BNB, i miracolati esentasse, fanno i miliardi e addio concorrenza. In basso, Califo colpito ma non affondato, al Bagdadi scampa per la terza volta, la Turchia accusa ISIS per la strage. E poi in basso, finale di partita, la geografia ridisegnata dal pallone. Questo è riferimento anche all'otto di qualificate a Euro 2016. Il fatto quotidiano, apre così, c'è ne quel che Renzi non dice, pagavo io, i miei scontrini sono online, già, ma solo qualche voce generica. Le parole di Cacciari attorno a Matteo, solo un corteo senza culture. Poi, più in basso, storia di copertina, un Movimento 5 Stelle, da direttanti a governanti, il Movimento fondato da Grillo e la seconda forza politica italiana, sfiderà il PD, ma una classe dirigente per il Paese, siamo andati a verificarlo nei comuni che sta già amministrando. E poi ancora, c'è il commento, superato il primo esame, sono ancora qui, i 5 Stelle erano dati per passeggeri come l'Umo qualunque, invece si sono radicati. Primo piano di Carlo Pentito, così è nato l'ostragismo di Cosa Nostra e poi doppia coppia, quell'Agnelli innamorato e la crisi Juve. Possiamo andare a vedere ora la prima pagina del Messaggero, anche in questo caso le parole di Renzi campeggiano proprio ad aprire l'edizione nazionale del Messaggero, in riferimento sempre al sindaco dimissionario Marino. Renzi dice, Marino ha rotto con Roma, il Premier è mancata la fiducia fra amministrazione e città, non con il PD, primarie si fanno, oggi il sindaco lascia, non ci ripenso, ma già lavora una sua lista, scontrini, via all'indagine. E poi sotto la testata vedete MotoGP Rossi secondo in Giappone, ipoteca il mondiale, cervelli in fuga, di spalla, un progetto per riportare 500 prof in Italia. Poi c'è l'editoriale di Stefano Cappellini, partiti e civismo, il conto salato dell'antipolitica in Campidoglio. La fotonotizia, il bilancio che sale a 128 vittime, i feriti sono oltre 500, la Turchia accusa Kamikaze Isis dietro la strage dei pacifisti kurdi. E poi ancora statali si cambia le nuove regole su scatti e settori, contratto, aumenti legati alla produttività, solo tre aree, sanità, istruzione e impiegati. E poi vediamo sanità, vaccini, così il governo vuole eliminare i dubbi. In basso, multe e tasse pagate lavorando per i comuni. Allora, possiamo iniziare con le testate abruzzesi, iniziando con la prima pagina del centro. Megarissa in centro, mi scuso per il gioco di parole, ma insomma tant'è. Megarissa in centro, sei arresti a Pescara, appunto bengaresi fermati in via Piave, si picchiavano con gli ombrelli. Poi sotto la testata vedete diversi richiami con la crisi romana, coinvolto il sindaco divisionario Marino. L'intervista, buongiorno per gli stalker, basta di vietti, riserve il carcere. E poi MotoGP, Rossi precede Lorenzo e si avvicina al mondiale. La fotonotizia è dedicata al posticipo tra Ascoli e Pescara. Il Pescara K.O. ad Ascoli, ora bisogna cambiare passo. Crollo di Biancazzurri nel finale, finisce 3 a 1. Nelle cronache, ancora la replica del comune Valentinetti, il ponte del cielo non è inutile. E poi, sempre a Pescara, morto del Duca, ex primario della medicina, aveva 84 anni. A Torino di Sangro, oggi i funerali del padre eroe, morto nel fiume. In 40 cercano il fotografo, setacciata la maiella per Valerio De Torre, sparito da 9 giorni. E poi il buongiorno a Bruzzo di Caglia Gianmaria, Madonna rubata. I residenti la ricomprano all'interno del centro. Intanto con questa intervista all'Avvocato Giulia Buongiorno. Donne vittime di vieti inutili per gli stalker. Serve il carcere, la penalista antiabusi. Molti magistrati sottovalutano le minacce. Poi ancora avanti, la pagina dell'Abruzzo, concorso, nuove farmacie, uno spiraglio dopo tre anni. Attesa per 85 assegnazioni, al momento c'è solo la graduatoria provvisoria, verifiche in corso sui vincitori. I concorrenti chiedono chiarimenti alla regione, ne va del nostro futuro. E poi interrogazione, eurodeputato PD Paolucci, Trivelle, la Unione Europea dica se lo sblocca Italia rispetta le direttive. In basso, martedì, Consiglio regionale straordinario, Forza Italia, Sanità, operazione a perdere. Consiglio, legge Bavaglio, il Movimento 5 Stelle presenta ricorso al Tar. E poi, questa due pagine speciale del centro, lavori in casa, il bonus anche nel 2016. Risolte le incertezze, il governo proroga gli sgravi del 50 e del 65%. Le agevolazioni saranno inserite nella legge di stabilità, soddisfatti gli imprenditori del comparto arredo e i costruttori. Poi ancora, rimborso massimo 48 mila euro, i pagamenti solo con il bonifico. La pagina della cronaca a Pescara, o meglio, le pagine. Allarme sicurezza in città, rissa per i cellulari. Arrestati sei ambulanti. Via Piave botte tra bengalesi che vendono cover e materiale per i telefonini. Ferito uno dei poliziotti che li ha fermati. La discussione in pieno centro, scaturita per questioni legate alle bancarelle e agli affari. Al centro, l'intervento dell'assessore comunale al commercio, Giacomo Cuzzi. Sono tanti i venditori, ma aumenteremo i controlli. Cuzzi assicura un potenziamento della vigilanza. Weekend tranquillo in Piazza Musi, forza per il maltempo. Via De Gasperi, 200 firme contro i senegalesi. Iniziativa dei residenti per bloccare il trasloco del mercato dalla stazione. Il sindaco cambi idea. E poi ancora la presa di posizione del vice sindaco del vecchio. Caro Valentinetti, quel puntile non sarà inutile. La replica delle perplessità espresse dall'arcivescovo sulla realizzazione del ponte del cielo. L'opera diventerà un simbolo di Pescara. Anche il ponte del mare all'inizio era stato criticato. E poi c'è l'altra polemica. D'Alfonso sveli il piano per la RAI. I sospiri chiede chiarezza sullo scambio con la sede della prefettura. E poi 50 anni di matrimonio. Festa per i genitori di Eusebio Di Francesco. Avanti ancora, comune senza soldi. L'ex sindaco Mascia, il vero responsabile. Scontro sui bilanci in rosso. L'assessore sul pizio replica agli amministratori del centro-destra. Accusati dal ministero. Roma ha spiegato le ragioni del dissesto. Qualcuno dovrebbe stare zitto. È una querelle che ormai si trascina da diversi giorni. C'è poi una sanità in lutto per la scomparsa di Walter De Luca. Ex primario di medicina. Ha speso una vita in ospedale. È stato consigliere e assessore comunale. Vicepresidente della Fondazione Caripe. Domani i funerali al Sacro Cuore. Poi c'è la denuncia. Umidità e degrado nelle case Ater. In via Lago di Borgiano. Finestre e citofoli rotti da anni. Inquilini che sono esasperati. Andiamo ora nel Pescarese. Siamo a Scafa. Lettera del sindaco. Fate ripartire la ex Sama. Giancola scrive a D'Alfonso, presidente della provincia e agenzia del De Magno. Rispettate gli impegni. Subito la gara d'appalto europea per tutelare i lavoratori. In alto Montesimano. Una sola richiesta di affido. Andiamo ora nella pagina di Chieti. Chi l'ha visto? 40 uomini in cerca del fotografo. Maiella setacciata. Palmo a palmo ma di dettorre nessuna traccia. Prima di dileguarsi l'uomo avrebbe chiesto un prestito. E poi in basso hanno perso il lavoro. Ora dormono in auto. A Ortono una coppia di coniugi parcheggia la macchina sotto il comune. E poi chiede aiuto. La pagina di Vasto. Oggi l'ultimo saluto al papà eroe. Lucio Cimini è annegato nel fiume Sangro per salvare il figlio. Caduto in acqua mentre pescavano. Cordoglio in paese. Il paese è Torino di Sangro. In basso colpo nel 2013 alla marina. Accumulo di pene per furti. Arrestato. Rubò l'incasso a un'edicola. Deve scontare tre anni e quattro mesi. In basso abuso edilizio. Tre condannati in appello. Rimessa agricola costruita sulla collina di Montevecchio. In primo grado erano stati assolti. Pagina dell'Aquila. Morì dopo la fuga dal reparto. Ora la svolta. Le parti offese. Il perito ha ammesso che il paziente era incapace. Sarebbe servito una maggiore sorveglianza. L'uomo era in ospedale per controlli. Secondo le valutazioni del consulente. La sedazione fatta all'uomo che era in crisi d'ansia. Fu inferiore a quella necessaria per tenere sotto controllo il nervosismo. Poi sul Mona Colabrese. Al vaglio le telefonate. I carabinieri esaminano le ultime chiamate del 27enne sparito. E poi in basso Branco di Cinghiali assalta un ristorante. Paura alla posta pacentrana e danni al giardino. Il titolare dice messi in fuga con l'aiuto dei clienti. Pagina di Teramo. La crisi delle costruzioni crolla. Un grande gruppo di genaro buco nero da più di 60 milioni di euro. Tortoleto, il gigante dell'edilizia, ha presentato richiesta di concordato preventivo. In gente il patrimonio 50 milioni di case invendute anche a Giulianova e Pescara. In basso concorso ASL. Previste 5 mila domande. L'azienda si riorganizza. Saranno tantissimi partecipanti al bando per 50 posti da OSS. Andiamo ora al messaggero Abruzzo. Dopo aver visto le pagine del centro. Messaggero Abruzzo che apre con lo sport. Pescara la grande delusione. Derby tirato ad Ascoli. Il Delfino domina i primi 45 minuti e va in vantaggio nella ripresa. Il pari di Perez suona la carica per i padroni di casa. Raddoppio di Giorgi e Tris di Petagna su rigore. Poi sempre per lo sport. Lanciano trafitto da un gol capolavoro. MotoGP. Gli Annone tradito dal motore. In Giappone il Vastese costretto al ritiro. Sotto la testata. Rissa in centro tra Bengalesi delle cover. Sei arresti in via Piave dalla Little Far West per il territorio. L'Aquila ex Reis Romoli un campus per ricercatori. Teramo giunta a Brucchi. NCD agitato. Rialza 20 di rimpasto. Sempre sotto la testata. Chieti la regione ricorre in appello per l'impianto di imballaggi. Avezzano casa di riposo a rischio. Trasferiti i 37 ospiti. Calcio di Serie D. Giulianova vittoria sofferta. Chieti pari stasera. L'Avezzano e Giorgine avanti di due gol. Si fanno raggiungere dalla Jesina ma riescono a imporsi. Decisivo il gol di Mastrilli al venticinquesimo del secondo tempo. E poi la sorpresa. San Cetteo debutta in cattedrale per la festa. La statua d'argento collocata nella navata destra. In arrivo lavori di adeguamento e di riqualificazione. E poi a Chieti latri in seminario all'ora dei Vespri. Bottino 200 euro. All'interno del messaggero Abruzzo. Pagina Aquilana. Ex scuola Reis Romoli. Campus per ricercatori. La proposta struttura destinata a ritrovare un suo ruolo chiave. Il grande immobile che ha ospitato il rettorato. Versa ora nel più totale abbandono. Hotel Campo Imperatore vicino alla nuova gestione. Aperte le buste della gara d'appalto per l'affidamento. E poi questa curiosità. Santo Stefano. Tra le mete più ambite per le nozze. E poi ancora la pagina della Marsica. Farmacie comunali. Battaglia in consiglio. Interrogazione di Santo Maggio e di Forza Italia sui debiti accumulati. La gestione ha incassato finora soltanto 18 mila euro l'anno. Si parlerà anche di associazionismo e di nuovi voucher per alcuni lavoratori occasionali di pubblica utilità. Sull'esercizio farmaceutico l'amministrazione sta accumulando soltanto passività. Andiamo avanti. Pagina di Pescara. Maxi Rissa. Per il territorio arrestati sei ambulanti. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio. In via Piave stupore e paura tra i residenti. Testa dice più controlli antidegrado. La risposta dell'assessore Cuzzi. I vigili fanno la loro parte. L'immediato intervento della polizia ha riportato alla calma. Ha ferito un agente e tre dei coinvolti. Oggi la direttissima. E poi Don Ciotti benedice il recupero del parco. Il comune punta la rinascita del giardino dell'infanzia in via Tavo. Servono 100 mila euro. In basso poi stoppa le piene. Ripulita la foce del Saline a Montesilvano. Pagina di Chieti. La regione ricorre in appello per l'impianto di imballaggi. Obiettivo ribaltare il TAR che chiede la valutazione di impatto ambientale. Spiazzato il comitato della Val Pescara. Andiamo avanti con la nostra battaglia. Esercito di residenti in prima linea contro l'opera da realizzare tra Manopello e Casanincontrada. Fotografo scomparso. Ricerche in montagna. Valerio Dettore non si trova. Soccorso alpino al lavoro. Cresce l'angoscia dei parenti. A vasto riapre oggi il bar Alba. Codici. Dice il rogo è doloso. In basso ripascimento entro fine anno. Ma i balneari vogliono garanzie. Tutto questo a Ortona. A Lanciano. Pupillo va a caccia del bis. Miri candido a sindaco. Pronto alla sfida con Tonio Paolucci. Se il PD lo consente. Ovviamente dice Pupillo. Disavventura per un soccorso in piena notte. Chiudiamo con la pagina di Teramo per il momento. Con il messaggero. Nuovi venti di rimpasto per la giunta Brucchi. Il ruolo di campana e quello della Luca Antoni si sono invertiti. Il sindaco per ora contro i risultati. Nessun voto contro. Non c'è fretta. A mio giudizio stiamo andando bene. Il consigliere regionale dell'NCD di Ignazio. Una volta eravamo una squadra. Adesso invece non lo siamo più. L'appello. Il Braga nell'università. Il rettore è favorevole. Docenti senza stipendio. Lettera di un genitore. Fa scuotere le istituzioni. Nuovo CDA per l'area marina. A Pineto. La natura traina il turismo. E poi c'è la polemica per il palacastro allagato a Giulianova. Tre società vogliono gestirlo. Nessuna risposta. Lasciamo il messaggero. Iniziamo l'ampia pagina di cronaca. Lo facciamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Fatta la prima pagina della Gazzetta andiamo con il collegamento telefonico per l'aggiornamento meteo con Giovanni De Palma. Allora ecco la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ecco che ci andiamo a risistemare per tempo. L'Europa che verrà ti dunque il giocatore di Maropello in primo piano dopo la brillante affermazione dell'Italia in casa dell'Azerbaijan che ha permesso agli azzurri di staccare il biglietto per l'Euro 2016. la regia della vittoria in Azerbaijan ha convinto tutti, la regia totale. L'Italia ha le rede di Pirlo, visione di gioco, tempi, personalità e poi Tavecchio sul rinomo del CT. Spero che resti ma non siamo schiavi. Poi sotto la testata le parole di Mancini, l'anti-Juve. L'Inter non vince in casa dal 2010. Troppo, si accende la super sfida. Allegri ha l'emergenza in attacco ma Morata è al lavoro. Un Milan con le ali, Mika tenta il decollo, nuova formula a Torino, Bacca con Buonaventura. E Cerci, Luiz Adriano, probabile escluso. Le strategie viola, Fiorentina e Conti tornano così l'austerity vale il primato. Serie B, il Cagliari scappa con Farias, il Bari non si ferma più. E poi altri richiami, Eurovolley, crollo azzurro da 2-0-2-3 con i francesi, agli ottavi c'è la Finlandia. Ma che bella l'Ital Rugby, affonda la Romania e blinda il Mondiale 2019. Basket, risveglio Milano, Lafayette, Stende Varese, Trento da meno 33 al Vittoria. E poi i verdetti per Euro 2016. Storica Albania, la Germania fatica ma alla fine è prima. Riecco la Romania, impresa della squadra di De Biasi. Lewandowski, festa, Polonia, Irlanda, spareggi. E poi di spalla, tra MotoGP e Formula 1, Vale, Beffa, Lorenzo e Sono Scintille. Hamilton fa lo zar, ma Vettel c'è. Il commento di Umberto Zappelloni, cosa dicono quelle due V. Ciclismo, Viviani, Fulmina, Sagan, Abu Dhabi, Gala di Stelle. E poi Trentin da record, Domina la Parigi Tour a 49,642 di media. E allora, possiamo andare a dare il buongiorno a Giovanni De Palma. Ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E allora, temperature sempre più in calo o mi sbaglio? Sì, sono diminuite perché la perturbazione che ha abbandonato la nostra penisola ha favorito anche l'arrivo di venti dei quadranti settentrionali. Oggi il tempo alla settimana, quindi inizierà con un tempo decisamente migliore, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale, ad eccezione delle zone montuose, dove durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio saranno possibili degli annuvolamenti. Ma nessun problema particolare, anche se poi, purtroppo, Andrea, la tendenza è verso un nuovo graduale, un peggioramento del tempo, che inizierà a manifestarsi soprattutto nella seconda metà della giornata di domani, a partire dalla Massica e dall'Aquilano, perché giungeranno nuovi sistemi nuvolosi di origine atlantica, che da martedì sera, da domani sera e nella giornata di mercoledì, favoriranno non solo annuvolamenti, ma anche dei rovesci, naturalmente a carattere temporalesco. Ma sarà soltanto l'inizio di una lunga fase meteorologica caratterizzata da instabilità e addirittura da tempo perturbato, soprattutto tra giovedì e sabato, perché aggiungerà un nucleo di aria fredda dall'Europa centro-settentrionale, che raggiungerà le regioni settentrionali, la Sardegna e parte delle regioni centrali, e ciò favorirà un elevato contrasto tra masse d'aria. Di conseguenza, insomma, non si escludono poi dei temporali anche di una certa consistenza e una nuova diminuzione delle temperature, che tuttavia sono previste in aumento tra oggi e mercoledì sera. Quindi una situazione, questa Andrea, si prospetta una settimana con tempo decisamente instabile, a tratti perturbati. Quindi godiamoci questa giornata di sole, perché poi anche probabilmente nel fine settimana avremo un tempo caratterizzato da diffusa instabilità e temperature in ulteriore diminuzione, Andrea. Instabilità e perturbazioni anche per il Pescara, caro Giovanni. Ieri brutta botta. Ma sì, diciamo che allora nel primo tempo c'è stata solo una squadra in campo, è stata il Pescara. Poi nel secondo tempo il Pescara ha trovato il gol del vantaggio, ma non è riuscita a sfruttare le occasioni per chiudere la partita e poi di conseguenza con l'infortunio di Bruno il centrocampo ha perso consistenza e l'Ascola è venuta fuori. Poi lì davanti hanno degli ottimi giocatori, molto fisici, quindi hanno trovato il guizzo facile nella nostra area di rigore. Ci sono stati anche degli errori nella nostra difesa, quindi è stata fatta la frittata. Purtroppo c'è anche questa cosa dei nazionali, abbiamo perso molti giocatori, quindi il centrocampo era evanescente, di conseguenza poi l'Ascola è riuscita a trovare, non conta il 3-1, perché c'è stato un calcio di rigore e poi tra l'altro una nuova ingenuità di Fornafè, ma comunque insomma dispiace perché la partita poteva avere ben altri esiti. Comunque andiamo avanti, adesso c'è l'altra trasferta, insomma c'è tanta voglia di rivalza in questo Pescara, io ci credo. Va bene Giovanni, ti auguro una buona giornata e buon lunedì. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie Giovanni Di Palma, noi proseguiamo con la Gazzetta che dedica ampio spazio dunque alla grande performance di Marco Verratti. A Verratti il testimone di Pirlo, aggiungiamo noi, speriamo che queste parole non vengano poi ribaltate da una eventuale prossima prestazione non brillante di Verratti con il fatto che poi c'è Pirlo, deve giocare Pirlo, a Pirlo il titolare. Spazio ai giovani, poi tra l'altro parliamo di un talento di classe cristallina come Verratti, parliamo anche un po' facendo il tifo al nostro corregionale, ma insomma così è, è un giocatore di livello internazionale cui bisogna dare le chiavi della nazionale. Play diverso, ma leader come Andrea, Marco ha già le chiavi dell'Italia, Baku battezza le stelle azzurre dove esordì Pirlo, Verratti ha mostrato di essere il regista del futuro, due architetti dei piedi d'oro e dalla convivenza difficile, tutte le idee di Conte. Pirlo è un dieci arretrato, tutto fantasia, Verratti invece un play meno creativo, più dinamico. Entrambi hanno una personalità forte, qualità essenziale per guidare il centrocampo azzurro. E poi ci sono le parole degli esperti, sembra Ciavi, ora però qualcuno lo riporti a casa, Albertini dice, diverso da Pirlo ma straordinario, Giannini, i nostri club abbiano la forza di prenderlo. E poi ci sono altri pareri, quelli di Eraldo Pecci, Giancarlo Desisti, ovviamente di Giannini come abbiamo detto, Albertini e quant'altro. Ci sono anche le foto dei big mondiali del ruolo, c'è Bialonzo della Spagna, Toni Kroos della Germania, Luca Modric della Croazia, Axel Witzel del Belgio e Miralem Pjanic della Bosnia. Avanti ancora, sempre parlando di nazionale, l'età nuova di El Sharawi da Monaco, l'azzurro per rinascere, poi dribbling, gol e religione, Eder perfetto per la legge di Conte. A proposito di Conte, ci sono le parole del Presidente della Federcalcio, voglio che resti, ma Figgici non schiava, tratteremo il rinnovo solo uno o due mesi prima della scadenza, il posto migliore. E qui andiamo a vedere gli altri risultati delle qualificazioni. De Biasi firma la storia, l'Albania va in Francia con la vittoria in Armenia, la squadra di Tirana strappa il biglietto per l'Euro 2016, costringendo la Darimarca e gli spareggi. Tra gli altri complimenti anche al capitano del Pescar, Ledyan Memushay, anche ieri titolare nella vittoria in Armenia della sua Albania. La Germania passa soffrendo, Müller e Neuer scaccia pensieri, poi Lewandowski fa sempre gol e la Polonia può festeggiare. La Polonia che ha battuto l'Irlanda 2-1, con lo stesso risultato, la Germania ha battuto la Georgia. Andiamo avanti, la pagina della Serie B, con il titolo sul Cagliari. Il Cagliari saluta e fugge, Farias spacca il Cesena, la squadra di Drago tiene mezz'ora, poi crolla. Manca un attaccante. C'è anche l'analisi di Nicola Binda, senza l'A si poteva offrire di meglio. E poi in basso, campo e classifica. L'Ascoli due volte scavalca il Pescara. Vittoria 3-1 dunque dell'Ascoli. Migliori in campo, secondo la Gazzetta, la Padula. Per lui voto 7, voto 7 anche per Caprari e Pescara. Nell'Ascoli i migliori sono due dei tre marcatori di ieri, ovvero il centrocampista Gigi Giorgi e l'attaccante Leonardo Perez. Poi a Vercelli, via Scazzola, c'è Foscarini. Dunque la svolta dopo la sconfitta a Casaniga nel derby contro il Novara di Marco Baroni. Vediamo anche il Lanciano, Gioiello di Vagliani. Bari che passo, tre vittorie di fila. Lanciano a secco. Mai Nicola aveva infilato un filotto così alla squadra di D'Aversa. Manca però un rigore. Quello per il fallo presunto di Contini e i danni di Ferrari quando si era da poco sull'1-0. Andiamo a vedere anche le pagine su MotoGP e Formula 1. Iniziando dalla Formula 1, Zara Hamilton giù il colbacco. Vince sempre Lewis, supera l'idolo Senna e fa festa con Putin. Poi le parole di Fettel. Il tedesco primo rivale lo prende in giro. Occhio alle Great Girls. Avanti ancora con la MotoGP e i due rivali ora si beccano. Org, io più veloce ma sono sfortunato. Vale, dice, irrispettoso. Il Maiorchino se la prende con la sorte e il dottore ironizza. Io sono intelligente e ho gestito le gomme. Ma il vincitore di ieri è Pedrosa, Camomillo è rinato. Dopo il rischio stop e Stoner lo esalta. Allora, ci fermiamo qui con la Gazzetta dello Sport. Ma vedremo in seguito anche le pagine del Corriere dello Sport prima di tornare alle testate regionali e di proporvi diversi servizi in particolare sulle gare di Serie B di ieri. Ascoli Pescara e Bari Virtus lanciano. Prima però la pubblicità. Di nuovo buongiorno. Da mattino 6 riprendiamo la nostra rassegna con il Corriere dello Sport che apre così Italia. Solo Conte. Tavecchio pronto al rinnovo per il CT. È l'uomo giusto. Antonio è un amico. Parleremo un mese dalla scadenza. I 23 azzurri per gli europei tra sicuri e chi spera. Poi Albania, ok storico. La Germania c'è. Avanti la Polonia. Ecco Mancini. Stacchiamo la Juventus. De Laurentiis. Sarri 5 anni con il Napoli per il motomondiale. Rossi secondo a Moteghi. Dietro Pedrosa. La zampata rivale mondiale più vicino. Rosicchietti 4 punti. Lorenzo è a meno 18. Balzo Ferrari. Ora Vettel è davanti a Rosberg. Poi c'è un'intervista esclusiva con Carlo Ancelotti. Nazionale non adesso. Ricomincio in Premier. A Gennaio mi rimetto in pista. L'Inghilterra mi attrae. Troppi dubbi. Così ho detto no al Milan. Quest'anno in Serie A è tutto aperto. La Roma ha tanta qualità. Napoli e Fiorentina in corsa. E allora subito la nazionale. La lista così Conte sceglierà i 23. Sono una quarantina i nomi. Almeno un dubbio per ruolo. Spazio ai giocatori più polifunzionali. E se Rossi e Balotelli. Puntini per dire. C'è un'opportunità anche per loro. Qualificazione senza macchia. Quasi un record fra i Citi azzurri. Tutti i Citi azzurri. Conte per ora è dietro soltanto Prandelli e Donatonini. Però ha una gara in meno. La metamorfosi. Tre nazionali in una. In 13 mesi si è passati dalla difesa 3 al 4-2-4. Così Conte ha arricchito il bagaglio tattico azzurro. E poi testa di serie. Tifiammo Turchia e Israele. All'Italia servono tre punti o uno. L'eliminazione dell'Olanda. E il pari o il K.O. del Belgio. Avanti ancora. Per noi solo Conte. La verità a primavera. Queste le parole del Presidente Federale Tavecchio. Albania all'europeo. De Biasi nella storia. Che sogno ci ha spinto un popolo intero. Dice De Biasi. Andiamo avanti. Con l'intervista esclusiva ad Ancelotti. La Premier e poi l'Italia. A gennaio mi rimetterò in moto. Vorrei fare un'altra esperienza in Inghilterra. Il No al Milan. Molti aspetti mi lasciavano dubbioso. Serie A apertissima. La Roma ha qualità. Mi piace il Napoli di Sarri. Dico anche Fiorentina e Juve. Avanti con la pagina o meglio le pagine della Serie B. Il Cagliari si prende tutto. Rastelli solo in vetta. Cesena travolto da Farias. Sao e Melchiorri. Inutile. Magnusson gol. Poi la prestazione di Melchiorri. L'ex Biancazzurro è saltata anche nelle pagelle. Melchiorri d'oro. Vediamo il voto dato a Melchiorri. Sette e mezzo come anche sette ha un altro ex Biancazzurro quale Capuano. La pagina di o meglio l'articolo legato ad Ascoli Pescara. Cuore Ascoli. Petrone ribalta il Pescara. Bruzzesi amanti con la Padula. Ma Oddo s'arrenda a Perez. Giorgi e Petagna. Voto sette per la Padula. Nell'Ascoli tanti sette. All'Anni, Giorgi e Perez. C'è anche il titolo ben visibile su Bari-Lanciano. Bari in volo. Ancora Vagliani. Nicola funziona. Il centrocampista abissa la rete di Latina per i pugliesi. Terza vittoria consecutiva. Secondo posto in classifica. Rosina Brilla. Contini sicuro. Zé Edoardo piace. Zé Edoardo evidentemente tra i più positivi. Secondo il Corriere anche se ci sono diversi sei e non si va oltre questo voto. Sul fronte Bari il migliore è chiaramente Vagliani. Addirittura sette e mezzo per il match winner. Gol da vedere e rivedere. Quello dell'ex giocatore di Bologna e Siena. Avanti ancora con la pagina sul calcio a cinque. Malucco all'ultimo tiro beffa il Montesivano. Il Real Rieti evita il K.O. Alla fine ha pala malfatti nel posticipo della quarta giornata. Lo vediamo. È finita 4 a 4 tra Real Rieti e Montesivano. All'ultimo tiro, al ventesimo minuto del secondo tempo, la squadra Areatina ha abbrancato il Montesivano di Ricci che aveva pregustato, stava pregustando in quel momento la prima vittoria in campionato. Peccato per il Montesivano. La pagina anche dedicata al basket prima di andare avanti. Cagli accende l'Enel, Bologna va a fondo. Prima di Ray, la Virtus prima domina, poi crolla nella ripresa. 81 a 54 il finale, delude Gheddi. Siamo chiaramente alle prime battute. Ci sono tre squadre al punteggio pieno. Reggio Emilia, Trento e Pistoia. Possiamo lasciare anche il Corriere dello Sport. Andiamo a vedere ora il centro. Ripartiamo da Ascoli-Pescara e tra pochissimo vedremo sia il servizio di Paolo Renzetti sia le interviste di Enrico Rocchi ai due allenatori Oddo e Petrone. Il Pescara si illude e poi crolla. Questo è il titolo di apertura dell'inserto 9 di Sport. La Padula gol, ma il ritorno dell'Ascoli è travolgente. Lanciano a picco. Bari è ancora tabù. Poi Oddo è daversa. Problemi diversi nelle considerazioni di Rocco Coletti. Poi in basso vedete l'Albania di Meusciai vola agli europei. Si qualificano anche Romania, Germania e Polonia. Oggi e domani le ultime gare. Sempre calcio, ma tra i direttanti. In Serie D risorge il Giulianova. Colpo del San Nicolò. Chieti solo un pari. Eccellenza. Lavastese sarà al primo posto. Impresa dell'Alba. Promozione. Prusulmuna vola. Espodeste il River. Un terzetto in vetta. Per il basket di A2. Roseto e Chieti. K.O. Fuori casa. In B. Bene. Amatori e Campli. Anche l'Italia ai piedi di Verratti. Il centrocampista di Manopello ormai ha conquistato il CT e la critica. Leonardo vede quello che gli altri non possono. E poi appunto Ascoli-Pescara. Il titolo è il crollo. Il Pescara passa, sciupa e vede le streghe. Aldelduca, Delfino, spreca nel primo tempo. Passa in vantaggio con la Padula e poi subisce la rimonta dell'Ascoli. La vittoria sul terreno dei Bianconeri manca da 27 anni. La squadra di Oddo ha giocato bene ma manca la concretezza. Gli errori alla fine si sono rivelati fatali. Qui vediamo una bella foto, un abbraccio tra il tecnico ascolano Petrone, l'attaccante pescarese e la Padula. I due erano qualche anno fa, quattro anni fa a San Marino. Petrone allenava la squadra del Titano e la Padula fu il bomber di quella squadra con 24 reti. Quindi si conoscono molto bene e si stimano Petrone e la Padula. La rabbia, Oddo, che polli, non si perde così. Abbiamo creato tantissimo e ci è mancato il cinismo. Il tecnico rammaricato, siamo stati ingenui e forse sfortunati. Siamo un po' calati fisicamente ma i miei cambi sono stati tutti obbligati. Petrone battuta una grande squadra. Crescenzi sfortunato sul gol di Giorgi. Oddo ancora al Del Duca per Di Massimo. Perché oggi c'è Monticelli-Avezzano. Nell'Avezzano milita questo grande prospetto su cui il Pescara ha puntato. Ha messo gli occhi di Massimo, attaccante dell'Avezzano. Presenti anche Juve, Roma e Atalanta nel pomeriggio al Del Duca per la gara e il posticipo di serie D. Bruno, il salto di qualità si fa con i gol. L'ex Latina dice non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni. Poi le pagelle, i voti più positivi sono per Bruno, Caprari e Lapadula. Sei e mezzo, i voti peggiori sono per Fornasier che prende cinque. Poi ci sono altre insufficienze a Valotti, Penali, Torreira, Mitrizza e Cocco. Andiamo al Del Duca con il servizio di Paolo Renzetti e poi le interviste ai due allenatori. Il Del Duca si conferma un campo stregato per il Pescara che gioca bene e domina a tratti. Passa in vantaggio con il solito Lapadula ma poi crolla nel finale perdendo una gara per certi versi. Incredibile. Il derby in terra Picena ha detto che questa squadra continua a giocare bene ma confermando anche di avere grossi problemi in attacco. Dove se non segna l'ex attaccante del Teramo sono dolori. Peccato anche per i 1500 tifosi biancazzurri arrivati in terra marchigiana con altre aspettative dopo la vittoria sul Cagliari. L'avvio di Marco Abruzzese al quinto Caprari chiama il miracolo Lanni. Passa un minuto e Cocco dai 18 metri mette di un soffio al lato. All'undicesimo Giorgi tira dalla distanza con Fiorillo che para. Più Pescara che Ascoli nella prima parte di gara con i biancazzurri per l'occasione in maglia rossa piuttosto spreconi in avanti. Dopo qualche minuto di pressione marchigiana al venticinquesimo c'è una punizione per il Pescara con Gianluca Lapadula che prova il bersaglio grosso dai 35 metri mandando la palla sopra la traversa. L'Ascoli è macchinoso ma al 34esimo una buona opportunità con l'ex bolognese Caccia che però non riesce a concludere permettendo alla difesa biancazzurra di rinviare il pallone. Il finale di tempo vede al 43esimo un colpo di testa alto da buona posizione di Caccia. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo e con maggiore equilibrio rispetto all'inizio di partita. L'Ascoli ci crede ma al 18esimo Lapadula realizza il gol del vantaggio andando a festeggiare sotto la curva dove ci sono i tifosi del Pescara. Per l'ex Terramano è un gol che vale tantissimo dopo quanto accaduto in estate. Il Pescara cerca di approfittare degli spazi lasciati dai bianconeri ma al 25esimo è Perez ad approfittare di una bambola della difesa biancazzurra segnando il gol del pareggio. Gli ospiti pagano la poca cattiveria in avanti e si ritrovano così ancora a ricominciare ad attaccare senza costrutto. Oddo cabbia ancora e manda in campo Mitriza ma il del Duca è stregato e così al 38esimo Giorgi con un tiro sporco deviato da Crescenzi segna il gol del 2 a 1. Il finale è ancora più amaro con il del Duca che si conferma uno stadio maledetto visto che al 94esimo Fornasier va a commettere fallo su Petagna in area regalando il penalty al giocatore di Scuola Minan che trasforma il tiro dal dischetto rendendo ancora più amaro il finale. Per il Pescara è una sconfitta immeritata ma che deve far riflettere perché se si gioca bene e si perde 3-1 evidentemente c'è qualcosa che non funziona. L'augurio è che il capo con i bianconeri possa servire di lezione in vista della gara di sabato prossimo a Trapani. Forse la miglior partita fino al gol e poi abbiamo sofferto la loro fisicità, le loro palle lunghe, le loro spizzate e abbiamo sofferto i tre tiri in porta che ci hanno fatto. Purtroppo siamo stati polli, colpa nostra e bisogna lavorare e migliorare. Dove ci dobbiamo essere più altruisti? Ovviamente è un discorso di gruppo oppure c'è qualche reparto indicato? Ci sono state 3-4 circostanze, 3-4 contropiedi in cui se lo fossimo stati avremmo svolto meglio le azioni offensive che poi non si sono concretizzate, avremmo potuto fare più gol. E' amareggiato soprattutto per aver perso ad Ascoli davanti ai 2.000 tifosi, per aver buttato l'ennesima occasione oppure per questo calo finale che c'è stato? Ma no, ma sono amareggiato perché saremmo potuti stare prima in classifica e invece siamo lì a metà classifica. Perché è così, perché ci facciamo male da soli e sotto questo punto di vista è un peccato. Quando perdi e gli altri meritano pieghi la testa e torni a casa, ma quando perdi così ne esci veramente amareggiato. Io volevo fare i complimenti a Pescara perché è una squadra importante, di grande qualità. Sapevamo del loro atteggiamento, che venivano a prenderci arti perché venivano a farci pressing nella nostra metà campo da subito perché è un atteggiamento che hanno avuto anche nelle partite precedenti. Dovamo essere pazientosi, dovamo avere un po' più coraggio di uscire per la piede da basso il primo tempo, però poi sapevamo che secondo tempo uscivamo fuori e i ragazzi sotto questo aspetto qua, i nostri, sono stati eccezionali perché ci hanno creduto fino alla fine e credo che nell'arco di 95 minuti sia stata una vittoria meritata. In cosa siete stati premiati? Oltre al fatto di crederci sempre, oltre alla determinazione, anche nel fatto di saper reagire, no? Loro hanno speso tantissimo il primo tempo e abbiamo trovato poi gli spazi delle nostre giocate dal basso, di fraseggio che ci è mancato il primo tempo, l'abbiamo trovato nell'arco della partita. È una squadra nostra che è in crescita, in crescita anche sotto questo aspetto perché questa partita col Cesena nelle stesse situazioni l'abbiamo persa. Invece stasera la squadra ha dato proprio un segnale di maturità, di aver lavorato su quegli episodi ed aver tramutato quelle situazioni negative in positive e questo per noi è un ottimo segnale. Ancora sul centro, Bari resta tabù, il lanciano spuntato va a K.O., un solo tiro in 90 minuti. Puniti da un eurogold, i rossoneri confermano le difficoltà sottoporte. I frentani non riescono a trovare la via della rete da 369 minuti dal 19 settembre, 1-1 a Trapani. Non è bastato lo sterile predominio del secondo tempo contro un avversario che era poco ispirato. Proteste per un contatto nell'area pugliese tra Contini e Ferrari e la terza sconfitta su quattro trasferte. Le parole di D'Aversa, pari più giusto, orgoglioso del carattere, il tecnico non si perde d'animo e loda il possesso palla dei suoi. Non segniamo da quattro partite ma il Bari è una delle squadre più forti della B. Circa le pagelle, tra i migliori difensori Aquilanti e Amenta, 6,5 non è una novità. E poi diverse insufficienze, la più marcata per Di Matteo, 5 e poi tante insufficienze leggere, tanti 5,5. Andiamo avanti, Lega Pro, Teramo torna il sorriso ma c'è subito l'esame Pisa. Luce e ombre nella prova contro la Rupa Roma, nel recupero si dovrà fare meglio. Moreo, aver tolto il segno o meno, ci dà morale. Ora parte un altro campionato per i bianco-rossi. Tra le notelliete spiccano il rientro di Cenciarelli e la porta è rimasta inviolata. Intanto rinasce lo storico club bianco-rosso con Gabriella De Iulis alla presidenza. Sempre in Lega Pro ma sul fronte l'Aquila, Mancini, l'Aquila senza di noi, non va avanti. Il vicepresidente risponde ai contestatori ed elogia Perrone. In arrivo due rinforzi. E ora la serie D. Il Chieti non sa volare, arriva solo un pareggio contro una Vispesaro in crisi societaria. Finita 0-0 al Benelli, il portiere celato tra i protagonisti della gara ma nel finale i Neroverdi rischiano di subire il gol Beffa. In panchina ancora Zuccarini, il primo tempo difficoltoso, non dobbiamo fare calcoli ma vivere alla giornata. Samb Show a gancio in vetta. Ieri vittoria 4-1 della Samb nello scontro diretto a Fano. E poi l'impresa del San Nicolò che fa il colpo al 93esimo e sarà al quarto posto. A Casolla stende il Matelica. Da quest'altra parte Giulianova vince con tre golle e chiude il caso Rossetti. I giallorossi tornano a successo dopo quattro turni e ricevono applausi dai tifosi. Sborgia realizza una doppietta in classifica. Scavalcata proprio la Jesina. In basso Amiternini, illusione prima della resa. 3-1 alla sconfitta a Montegranaro. E poi oggi il posticipo. L'Avezzano ci prova col Monticelli. Lucarelli, il tecnico, dice guai a fare barricate. Ma noi torniamo alla vittoria. 3-2 del Giulianova sulla Jesina. Golle d'emozioni al Rubens Fadini dove dopo 90 minuti combattuti il Giulianova supera per 3-2 una Coriacea Jesina capace di recuperare due reti di svantaggio prima di subire il terzo gol locale. Si comincia in un clima teso e dopo una settimana pesante e contrassegnata da contestazioni all'indirizzo della squadra ed in particolare del portiere Rossetti che non è più un giocatore giallorosso. In campo si affrontano due squadre costrette a fare risultato per una classifica dir poco anemica. La paura di perdere è palpabile. All'undicesimo si vede per la prima volta la squadra di Francesco Giorgini pericolosa con un colpo di testa al lato di Ken Dossè su angolo teso di Emili. E il preludio al vantaggio griffato da vita direttamente su punizione al tredicesimo con una conclusione secca che buca la barriera e non lascia scampo al giovane Cecchini. Al ventiquattresimo ancora vita prova il bersaglio grosso mandando la sfera sopra la traversa. Ma la squadra di casa per l'occasione in maglia blu è più che mai cinica e trova così al venticinquesimo il raddoppio con Sborgia che ha tu per tu con Cecchini. Non sbaglia. Ma la gioia per il doppio vantaggio dura poco perché ci pensa Ragazzu servito da Cardinali a riaprire il match al ventinovesimo. I marchigiani ci credono e continuano a spingere anche se al quarantesimo e l'ispiratissimo Giampaolo a chiamare Cecchini. Al salvataggio in calcio d'angolo prima del vero e proprio miracolo su Marini che a tu per tu con l'estremo bianco rosso scarica sul portiere. Bravo a chiudergli lo specchio. Nella ripresa la prima emozione di marca Giuliese con un tiro insidioso di Giampaolo che mette di pochissimo a lato. La gara è equilibrata rispetto al primo tempo. Ci sono però meno spazi per gli avanti Giuliesi che fanno più fatica ad avvicinarsi nell'area marchigiana. Dall'altra parte la Jesina spinge al diciannovesimo. Trova così le pari con Tafani che di testa salta più in alto di tutti su perfetto calcio d'angolo di Frulla. Tutto da rifare per la squadra di casa che però al venticinquesimo con un perfetto pallonetto del neo entrato Mastrilli su uscita dissennata di Cecchini trova il 3 a 2 che vale 3 punti di platino e anche la pace con i tifosi. Prosseguiamo alla nostra rassegna. L'eccellenza, Vastese padrona e sola in testa. I biancorossi sbancano Montesilvano, doppietta di Faccini e balzano al comando della classifica. Acqua e Sapone sempre più inguaiata, 0 punti. Grande prova del giovane portiere D'Andrea. Il tecnico Vastese Colavitto vincere qui non era facile. Mentre l'Alba infila il Pineto, poi ci pensa Super Petrini con Lampo di Clementoni, strepitoso il portiere classe 97. Pineto-Alba 0 a 1. Poi il Paterno che guidava il campionato è stato costretto al pari ieri sul campo della Torrese. Vedete la Torrese frena il Paterno, i Marsicani perdono la vetta. Finisce 1 a 1 sul campo di Castelnuovo-Vomano. Andiamo a vedere il basket, la serie A2, le sconfitte per le due abruzzesi. La Progerchietti domina ma cade nel finale a Treviglio. Troppe imprecisioni in attacco e dalla lunetta. 60-53 il finale. Non sono bastati 14 punti di Monaldi, 11 di Sergio e 12 di Armwood. Galli senza Abbott, rotazioni difficili. Il giocatore mandato via in settimana, Ty Abbott. Poi sul fronte Roseto, McKennergy a picco nella trasferta di Verona. Seconda sconfitta costitutiva per gli Sharks. 75-55, Trullo il Tezenis e di un'altra fascia. In Serie B, l'Amatori supera nel finale un Bisceglie in confusione. 78-62, trascinati dalle triple di Pepe. Nell'ultima frazione i pescaresi conquistano la seconda vittoria stagionale dopo una partita difficile. È sempre in equilibrio. Vasto, poco incisiva. Esce sconfitta dal campo di Taranto. 74-64. La Wirortona cade per la prima volta in Puglia. Passo falso a Monteroni. 71-61. E domenica arriva il Falconara. Falconara che a sua volta ha regolato Giulianova 93-79. Mentre il Campli espugna Porto Sant'Elpiglio, secondo sigillo esterno per il Quintetto di Millina, in tre giornate. 69-79. 34 punti, come leggiamo, di fattori. Torniamo al messaggero Abruzzo. Tra poco vedremo anche il servizio della partita persa dalla Virtus Lanciano a Bari. Intanto vediamo le pagine sul Pescara. Il Pescara dura un tempo. Biancazzurri sconfitti. 3-1 sul campo dell'Ascoli. La Padula illude, ma nel finale arriva un netto calo. Ottimo primo tempo nel quale gli abruzzesi hanno avuto il torto di non chiudere la partita. Adriatici padroni del campo per 45 minuti, ma troppi errori in fase conclusiva. I marchigiani escono alla distanza. Poi c'è questo ritornello. La mancanza di cinismo, dice così, anche Crescensi. Bruno recrimina troppe occasioni da rete fallite. In queste sfide serve un po' più di concretezza. Le pagelle. 5 per Fornasier. Poi voti, diciamo così, tra il 5 e mezzo e il 6. 6 e mezzo per Caprari e la Padula. Andiamo alle parole di Oddo. Siamo stati dei polli. Ci siamo fatti male da soli. Impossibile perdere una partita così. Nella ripresa abbiamo pagato la condizione fisica precaria di qualche giocatore. Ecco la pagina sulla Virtus Lanciano. Il solito mal di trasferta. Virtus KO a Bari decide una rete capolavoro di Vagliani a 10 minuti dalla fine del primo tempo. Il Lanciano tenta di reagire, ma crea poco. Sul finire del primo tempo proteste per un contatto in area tra Ferrari e Contini. Il pareggio sarebbe stato più giusto e credo ci fosse un rigore per noi, dice D'Aversa. I cambi decisivi, loro hanno messo elementi di qualità. Parla anche Zeduardo. Gara decisa da una prodezza individuale, dice l'ex giocatore del Cesene. Allora, andiamo a vedere nel servizio di Alessio e Gian Cristoforo la vittoria del Bari di misura sulla Virtus. Continua la maledizione del San Nicola di Bari per la Virtus Lanciano che perde 1-0 contro la squadra di Davide Nicola. Non giocano male i rossoneri, ma la stitichezza sottoporta la troppa prevedibilità della manovra. Alcuni avvicendamenti tardivi come quello di Lanini limitano i frentani. D'Aversa manda in campo un 4-3-3 che ben presto si tramuta in un 4-4-2 con Zeduardo a supporto dell'avanzato Ferrari. Il Bari non è e non fa nulla di trascendentale, ma la qualità dei singoli a disposizione di Nicola farà la differenza al novantesimo. La stragrande percentuale delle conclusioni del Bari sono tutte dalla distanza. La prima è di Maniero al terzo, al quarto invece il turno di Valiani, ma la prima vera occasione della contesa è per la Virtus. Minuto 8, corner di Mammarella per la testa di Puccino che non inquadra lo specchio. Al 34esimo il vantaggio del Bari. Palla per Maniero che è bloccato e può solo passare la palla a Valiani che non trova ostacolo alcuno. Riceve palla e dal limite dell'area di destro disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo. A Casadei alla Virtus Lanciano a lamentarsi al 37esimo il Lanciano per un intervento che lascia più di un dubbio su Ferrari, ma anche in questa circostanza il fischietto Marini lascia scorrere. Sul finire di prima frazione di gioco è ancora pericoloso il Bari con Rosina che approfitta dello sbilanciamento dei rossoneri, ma la traiettoria dell'attaccante barese non inquadra. Lo specchio nella ripresa è più Bari, subito padrone di casa pericolosi su corner con Casadei che interviene in due tempi. Poi è il turno di Maniero all'undicesimo che impegna in corner lo stesso Casadei. Iniziano i cambi fuori Ferrari, palesemente contrariato dalla sostituzione al suo posto Padovan, ma è ancora il Bari a rendersi pericoloso. Cross di Rosina in area di rigore per De Luca sul quale si immola Aquilanti. Altri avvicendamenti per il Bari e il turno di Sansone per De Luca, per il Lanciano, dentro Crecco, fuori di Cecco e al 32esimo fuori di Francesco, dentro Lanini. Proprio Lanini, nonostante 15 minuti complessivi in campo, si dimostrerà uno dei più attivi. L'esterno Scuola Juve inventa un cross al centro dell'area che non viene agganciato da Padovan. Mammarella telecomanda una serie di palloni in area di rigore potenzialmente pericolosi, ma non vengono sfruttati come dovrebbero poi. L'ultimo acuto della contesa è la punizione di Mammarella che dà l'illusione del gol. Una illusione in realtà che rimane tale e sembra ormai cronicizzarsi in casa Virtus a secco da quattro gare. Su questo aspetto deve lavorare certamente Roberto D'Aversa, magari provando anche altre soluzioni come l'innesto di Elio De Silvestro e dando più fiducia ad Eric Lanini in attesa che Piccolo e Marilungo tornino a disposizione molto presto. Andiamo a finire con i titoli sulla Lega Pro. L'Airona e Moreo illumina il Teramo. Questa vittoria la dedico ai tifosi che ci sono rimasti vicini. I K.O. non erano meritati. Ci sono costati sei punti in classifica. L'Aquila contestata. L'apertura di chiodi, rinforzi possibili, quarta sconfitta consecutiva. I tifosi si sono fatti sentire. Il mercato degli svincolati sembra però arduo servirebbe un leader che non possiamo permetterci ora. Mancini giochiamo bene. Torna Iannini, ex giocatore aquilano nella stagione 2012-2013 nel capoluogo d'Abruzzo. E poi in Serie D a Pesaro e Chieti non passano. I Neroverdi ci provano ma non vanno oltre un pareggio deludente. Teron ci alza la voce. Così non basta. Giulianova si rialza e scaccia le critiche. Avanti di due gol contro la Iesine. I giallorossi si fanno rimontare ma c'entrano la vittoria grazie a Sborgia, Vita e Mastrilli. La società tratta l'attaccante Di Nardo. Il consulente Saraiocco deve risolvere la grana Valdes per gli stipendi dell'anno scorso. E poi ancora per il basket. Progera Treviglio sconfitta sul filo di lana senza Tai Ebbott. K.O. anche piccoli. Chiede in vantaggio per gran parte della partita ma poi si spegne alla distanza. Sul fronte opposto Verona passeggia su quel che resta dei Roseto Sharks. Una brutta figura per i biancazzurri mai stati in partita. Per l'eccellenza tornando al calcio. Faccini implacabile. Va stese in testa tutto nella ripresa. Doppietta del bomber poi Tarquini. La squadra di Colavitto è spietata e conquista la leadership del campionato come vediamo da questa classifica. Un punto di vantaggio sul Paterno. 3 sul Miglianico, 4 sulla Coppia Alba e Morro d'Oro. Finiamo qui mattino 6. L'appuntamento con l'informazione della nostra emittente è per le ore 14 e per le ore 19. le due edizioni del TG6 e poi questa sera alle 21. Spazio a replay la trasmissione di Enrico Rocchi. Torneremo a parlare di Ascoli Pescara e poi anche della partita di sabato prossimo in quel di Trapani. Per i biancazzurri di Massimo Oddo. Grazie a Gianni D'Areo in regia e grazie a voi che ci avete seguito in questa mattinata. Buona giornata. Grazie a tutti.